Con Nembo, autore di questo suo primo romanzo, La prigione di carta, un bilancio di questa prima esperienza da scrittore? Il bilancio è positivo, anche se siamo appena all'inizio di questo cammino di promozione, sto avendo l'opportunità di girare l'Italia, o almeno mezza Italia, dove è possibile anche date le limitazioni del Covid, però devo dire che c'è grande affetto, grande attenzione, grande testimonianza del mondo della cultura rispetto a quest'opera. La prigione di carta è stata accorta molto bene, giriamo nelle associazioni culturali, librerie, nelle prologo, negli enti di diffusione dei libri e quant'altro, e devo dire che stiamo avendo grandi soddisfazioni, quindi ad oggi il bilancio, benché parziale all'inizio, è decisamente positivo. Il tema parte da una domanda probabilmente fondamentale, ma anche vaticinante, che cosa potrebbe succedere se di punto in bianco proibissero la scrittura a mano? Beh, potrebbe succedere che l'uomo perde un pezzo della propria identità, la scrittura a mano è un pezzo della nostra personalità, per esempio nei tribunali si studia, in grafologia, si studia per studiare la personalità degli uomini, e perdere la scrittura a mano si va a perdere un pezzo di noi stessi, quindi il protagonista della prigione di carta, il professor Malcolm King, che era un professore appassionato e idealista, fa di tutto affinché ciò non succeda. Quanto è vicino questo futuro, secondo Marco Onnembo? Ahimè è abbastanza vicino, temo. Qual è la battaglia di avanguardia che secondo me noi tutti dobbiamo fare? Conservare l'analogico insieme al digitale, quindi la scrittura a mano con la scrittura digitale, la diffusione del sapere attraverso i libri di carta con la diffusione del sapere attraverso la tecnologia e i libri digitali. Le due modalità devono andare insieme, di pari passo, non una prevalente rispetto all'altra, perché certamente dal progresso non si può tornare indietro, esiste solo una direzione che è avanti. Domani non torneremo a fare le cose con le mani, quelle che oggi facciamo grazie alla tecnologia, ai cellulari, a internet e quant'altro, però naturalmente non dobbiamo perdere la nostra identità, la trasmissione della cultura, anche attraverso l'uso della scrittura a mano e dei libri cartacei è qualcosa di insostituibile.